Partiti! Touch Noir, maglietta fina, Amen Angel e King Phillips. E in vantaggio lungo la corda sempre Eldor River davanti a Spinning Force, Leap Fix, Amen Angel, maglietta fina, Touch Noir, Aksarheim. E in vantaggio Eldor River attaccata all'esterno da Spinning Force a centropista, maglietta fina, passa Spinning Force davanti a maglietta fina, Eldor River. Lo spunto vincente è quello di Spinning Force, il numero 9 con Carletto Fiocchi in sella sul calo conclusivo di Eldor River e sul bel attacco anche di maglietta fina.